Una mattinata Da operatori ecologici per gli studenti Delle liceo Plinio il Giovane E dell'istituto Patrizzi Baldelli Cavallotti Di Città di Castello Che hanno aderito all'iniziativa Puliamo il mondo L'edizione italiana di Clean Up the World Che compie quest'anno 30 anni Con il supporto delle comune Di Sogepu, Legambiente e McDonald's I ragazzi si sono ritrovati alle 9.30 Presso l'area verde comunale Salaiolo Graticole E dopo aver indossato le pettorine Ed essersi armati di pizze Hanno iniziato la raccolta Organizzati in gruppi A seconda delle materiale da cestinare Un'iniziativa volta a sensibilizzare Attivamente soprattutto i più giovani Alla corretta gestione dei rifiuti E alla promozione dell'economia circolare Noi ragazzi del liceo Siamo circa 25 Più ci sono ragazzi di altri istituti E ci stiamo impegnando Per ripulire un po' il nostro quartiere Per insomma dar visibilità Più importanza a queste tematiche Che spesso vengono anche trascurate Soprattutto dai giovani E ci piace insomma Far capire l'importanza Di mantenere il mondo pulito Per anche viverlo meglio Starci meglio Abbiamo approfondito le tematiche varie volte E pensiamo che farlo in prima persona Pulire i parchi Raccogliendo la spazzatura in prima persona Sia una bella attività Perché stiamo pulendo I parchi in cui passiamo Le nostre giornate E le nostre estati Per un clima di pace È il motto della trentesima edizione Della campagna di sensibilizzazione Di Lega Ambiente Un messaggio chiaro e diretto Che vuole ancora una volta Sottolineare quanto siano importanti Ed incrociati I temi dell'ecosostenibilità ambientale Della protezione Della cura Delle risorse naturali Ma il tutto svolto In un clima di pace Fratellanze e collaborazione Tra comunità e popoli Siamo a fianco All'amministrazione comunale Di Città di Castello Che questa mattina Ha voluto realizzare Questo bel progetto Noi siamo qui presenti Con il nostro personale Alcune attrezzature Che abbiamo messo a disposizione Della manifestazione E rinnoviamo in questa sede L'impegno Anche per portare All'interno delle scuole Con dei progetti Realizzati insieme al comune Di Città di Castello Appunto la cultura Del riutilizzo dei materiali Della raccolta differenziata Quindi tutte quelle buone pratiche Che noi vogliamo diffondere Al massimo Noi abbiamo già dei progetti Che portano Diciamo i nostri docenti All'interno delle scuole Del comune di Città di Castello Intensificheremo anche Quelle che sono le visite Presso le nostre strutture I nostri impianti Dove tra l'altro Lì oggi Noi trattiamo Carta, plastica Quindi recuperiamo Anche dei materiali Che negli ultimi mesi Hanno raggiunto Anche dei valori Importanti E dove realizziamo Praticamente anche Il compost Che stiamo regalando Ai cittadini Delle nostre Amministrazioni Che serviamo Lì praticamente I ragazzi potranno vedere Tutto il percorso Dell'organico Quindi dalla selezione Il trattamento Fino appunto Alla realizzazione Di questo compost Che viene riutilizzato Nei nostri giardini E anche in agricoltura Da molte aziende Del territorio Allora Noi ci siamo inseriti In questo contesto Perché abbiamo anche noi La nostra iniziativa Che sarebbe Le giornate per l'ambiente Che abbiamo già fatto L'anno scorso Sia qui a Città di Castello Che in 104 comuni In Italia È stato un successo 40.000 volontari Insomma abbiamo mostro Una bella situazione E la vogliamo ripetere La stiamo ripetendo quest'anno La faremo anche a Terranova Bracciolini Dove ho un altro ristorante E quindi Ci siamo uniti In questo contesto Per fare un po' più di rumore Diciamo Per un'iniziativa Che è quella dell'anti-littering Ossia di raccogliere rifiuti Che ahimè Purtroppo Se pensiamo che la carta Rimane per terra tre mesi La plastica Anche un secolo Ovviamente fare questo servizio Ci è sembrato doveroso Soprattutto come messaggio Non risolveremo il problema Di Città di Castello O dell'Italia Però cerchiamo Di lanciare dei messaggi simbolici Di far vedere che Team Working Come vuole McDonald's E soprattutto Una sensibilizzazione Delle persone All'anti-littering Ovviamente È quantomeno doveroso Soprattutto per quello Che negli ultimi anni Sta succedendo Sia aumento Del delivery Quindi delle consegne A domicilio Aumento del My Drive Quindi delle consegne Tramite auto E questo comporta Un aumento del littering E per questo Dobbiamo dare un messaggio Forte e importante Allora Puliamo il mondo È un'iniziativa Che viene fatta Ogni anno Anche Città di Castello Come assessorata All'ambiente Per sensibilizzare Le nuove generazioni Per quanto riguarda La raccolta differenziata Il bene comune Che riguarda I giardini e i parchi Anche quest'anno Insieme al liceo scientifico Di Città di Castello Perché la classe è scientifica Anche se il liceo è E una classe del liceo scientifico E due classi dell'agraria Parteciperanno insieme A Legambiente A Sogeppo Che ha dato una mano Sotto l'aspetto logistico Molto importante Legambiente Che è Diciamo La madre Di questa iniziativa E anche McDonald Che ci ha dato una mano Sotto certi aspetti Per fare questa iniziativa Che io ritengo Importante e fondamentale Non tanto per quello Che succede oggi Ma per quello Che significa da oggi in poi Per tutti questi ragazzi E io ritengo Che questo sia l'inizio Di un percorso E come ho detto anche prima All'amministratore di Sogeppo A Gorace E a Letizia Guerri Che poi verrà qua Come assessore Alle politiche scolastiche Dovremo ripartire Dalle scuole elementari A far sì E a spiegare Che cos'è la differenziata Che cos'è Un impianto Come quello che abbiamo A Bella Danza Per sensibilizzare Le nuove generazioni Perché abbiamo Soprattutto quest'estate Trovato situazioni Delicate E non proprio Consone Al modo di essere civile Per quanto riguarda I parchi La tutela di parchi Atti vandalici E questo io ritengo Che possa essere Un inizio Di un percorso Insieme a tutti Per far sì Che questi eventi Non possano ritornare E la sensibilizzazione Parte dal basso Perciò Dalle scuole elementari E spiegare Che cosa significa Ambiente Tutela dell'ambiente E quello che ne deriva Beh sì D'altra parte Sono i giovani Che in questi anni Proprio riportano Il tema Del clima E della tutela ambientale Nelle piazze Di tutta Italia E allora devono essere Protagonisti Anche qua Città di Castello Perché ovviamente La tutela ambientale La sensibilizzazione Parte da una scelta quotidiana E questo è il messaggio Che vogliamo trasmettere Non soltanto A loro Che hanno responsabilizzato In realtà Forse i propri più grandi In questi anni Ma che puntiamo A trasmettere A tutti i cittadini Clima E tutela ambientale Dipendono Da ogni comportamento Di ognuno di noi E questo i ragazzi Anche oggi Qui in un parco pubblico Ce lo insegnano Parteremo dalle scuole Ogni tematica Ogni criticità Ogni problematica Così come ogni proposta Ha senso affrontarla Specialmente Quando si parla Di città Di buone pratiche A partire dagli istituti scolastici Con i ragazzi Per cui un progetto Importante Di sensibilizzazione In collaborazione Con l'assessorata All'ambiente Che ci porterà In tutte le scuole Di ogni ordine Grado del nostro comune All'ambiente 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 Dove All'ambiente Grazie a tutti.